coltellino tecno sharp coltellino in acciaio linux 420 come vediamo ingombra pochissimo poiché sono due sottili strisce di metallo sovrapposte per rendere l'ingombro ridotto al minimo molto tecnologico apertura one end questa parte qua fa anche da sicura infatti incastra poi per richiuderlo basta premere leggermente e richiuderlo il tutto avviene solamente con una mano la lama è molto tagliente punta accuminata becco d'aquila scritta sharp incisa sulla lama questo questo piccolo perno serve per aprirlo con una mano in questa maniera proprio come sto facendo foro passante per legare un cordino sul retro molto interessante troviamo una robusta clip metallica modellata per passarla in una per agganciarla in una qualunque cintura ottimo coltello con un po di pratica si può arrivare ad aprirlo senza toccare per niente la lama muovendo in questa maniera si riesce ad aprirlo con una sola mano solo per gravità comunque la prima volta arrivare ad aprirlo con una maniera circa da parte importanza una maniera di undrangeria correcta ok 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 ok